Buone notizie sul fronte ascolti per Temptation Island 2016. Dopo il timido debutto della prima puntata, il secondo appuntamento con il reality show dell'amore ha incollato davanti ai teleschermi 2.648.000 telespettatori con uno share del 13.55%. Un risultato migliore rispetto alla prima puntata che era stata seguita solo da 2 milioni di persone. A quanto pare, dunque, la coppia in crisi continuano ad avere il loro fascino. Il flirt tra Luca e Irene, la gelosia di Giorgette nei confronti del single Claudio sotto gli occhi del fidanzato Davide e il presunto bacio tra Flavio e Diana hanno appassionato il pubblico che, oltre a scatenarsi sui social, ha ripagato Filippo Bisciglia in termini di ascolti. I risultati, tuttavia, non raggiungono ancora quelli delle scorse edizioni in cui, però, c'erano molte coppie VIP già molto seguite dagli utenti. Nonostante, dunque, ci sia solo quella di Ludovica e Fabio come coppia famosa, gli ascolti sono più che buoni. . .